Diritti civili e unioni gay, la polemica virtuale fra Loredana Capone e Alfredo Mantovano continua. A poche ore dalla fine del primo round ricomincia il secondo con Loredana Capone, che dà del tale padre, tale figlio a Mantovano, riferendosi a Ripa. Dopo lo show di Ripa, che su Facebook vanta Mantovano tra i suoi mentori politici, arriva l'ennesima dichiarazione ipocrita del centrodestra pugliese accusa la Democratica, rispondendo alle parole dell'ex sottosegretario, che in soldoni l'accusava di avere i piedi in due scarpe, una radicale e un'altra cattolica. Io sono per la famiglia, questo non vuol dire che io posso discriminare coloro i quali scelgono semplicemente di convivere, ma non devo riconoscere nulla. Ma come si fa a dimenticare che esiste una legge dell'84 fatta da un governo democristiano che riconosce il diritto alle coppie conviventi di avere la casa popolare? Ma Mantovano non ci sta e sul social network risponde alle dichiarazioni della Democratica appostate qualche ora prima. Il suo agitarsi, così in contrasto con l'immagine di persona dedita al dialogo e alla riflessione, dipende evidentemente dall'imminenza delle primarie, del suo schieramento e dal timore di non farcela, scrive l'ex sottosegretario. Timore del tutto comprensibile, quello che è contesto alla vicepresidente della Regione Puglia è di provare a superarlo tenendo tutto insieme, frequentazioni delle parrocchie e l'invito all'onorevole Conce inclusi. Se lei ritiene che le due cose, prosegue Mantovano fra le altre al netto degli strali, anche nei miei confronti siano perfettamente coerenti, la prossima volta che fa venire a Lecce una delle più accese sostenitrici del matrimonio fra persone dello stesso sesso, la porti con sé nelle parrocchie e poi ce la racconti, conclude Mantovano. Ma il tema dei diritti civili e dell'unione gay ha tenuto banco anche ad Open. I primaristi del centro-sinistra, tuttavia, quasi tutti non hanno dubbi. Sì al riconoscimento delle unioni gay per Carlo Salvemini. Non svicolo. Io dico che a Lecce, come in tante città d'Italia, può essere avviato anche il registro delle unioni civili. E così come a Lecce, come altrove, può essere avviato anche il registro delle dichiarazioni spontanee per il cosiddetto testamento biologico. Si mantiene sul vago, invece, Sabrina Sansonetti, nonostante l'ok convinto dell'Italia dei Valori. Questa domanda, secondo me, non deve essere fatta a un rappresentante comunale che pur esprime in maniera tranquilla che, onestamente, io per scelta di vita accetto sempre l'altro e sono sempre propensa a rappresentare quel bene comune che deve essere un bene di tutte le parti sociali e di tutti i cittadini. Grazie a tutti.